Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPL dove ci sono rallentamenti per il traffico intenso tra Montopoli-Valdarno e Ponte d'Era Est in direzione Livorno. Su raccordo a Siena-Firenze, da stanotte a martedì in orario 23.6, chiusura notturna per lavori tra Firenze-Impruneta e lo svincolo Impruneta-Grevenchianti in direzione Siena e tra San Casciano Sud e Firenze-Impruneta con chiusura anche dell'entrata dello svincolo Impruneta-Grevenchianti in direzione Firenze. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, lavori tra Fivizzano e il Valico del Cerreto in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda gli aerei, il volo da Roma atteso a Pisa alle 12.20 è stato cancellato così come la sua ripartenza delle 12.55. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!